Ciao a tutti gli appassionati di orologi. Squale è un'azienda diventata inizialmente famosa per la produzione di casse utilizzate da tantissimi altri marchi. Successivamente ha sfruttato poi questa sua notorietà per commercializzare degli orologi con il proprio brand sul quadrante. Nella sua storia ci sono stati vari modelli, alcuni già riproposti in epoca più recente dal rilancio del marchio in poi. Verso la fine del 2022 sono state lanciate delle nuove referenze che riportano ai giorni nostri lo skin diver del marchio. Inizialmente nei primi mesi la produzione ha fatto fatica a soddisfare la richiesta e infatti anch'io ho dovuto aspettare un po' per potermene accaparrare uno. Ma finalmente adesso che è arrivato nella mia collezione sono pronto per dirvi che cosa ne penso. Scopriamo insieme com'è il super squale 20 Atmos. Prima di iniziare vorrei ringraziare gli amici dell'orologeria Mayer di Torino per avermi fornito l'esemplare oggetto di questa recensione. Sono concessionari ufficiali di tutti i marchi che vedete nella grafica qui sotto e sono abituati, anzi abituatissimi, ad effettuare spedizioni in tutta Italia. Come al solito in descrizione trovate il link al loro negozio online. Tra gli anni 50 e gli anni 60 le immersioni divennero una pratica ricreativa sempre più diffusa e quindi non più riservata ai soli professionisti del settore. Per questa ragione in quello stesso periodo divennero molto popolari i cosiddetti skin diver. Non esiste una definizione univoca e specifica per questa tipologia di orologi ma si tratta sostanzialmente di modelli con un'impermeabilità fino a 100 o 200 metri e con dimensioni più compatte rispetto ai diver professionali. Dei primi anni 60 Squale fu proprio uno dei principali produttori di queste casse che fornì a tantissimi marchi. Queste sono le radici storiche del Super Squale. Il corredo è quello che accompagna tutte le altre referenze più recenti del marchio con il cofanetto rivestito in similpelle con effetto saffiano in colorazione blu elettrica. All'interno troviamo un minimo manuale di istruzioni e la card della garanzia. Al momento sono presenti a catalogo 5 varianti diverse del Super Squale disponibili a loro volta con bracciali in acciaio o con cinturine in pelle per un totale di 10 possibili configurazioni. Le mie preferite sono senza dubbio quelle più ispirate ai modelli vintage, in particolar modo il quadrante marrone e quello grigio e per la mia collezione ho scelto proprio quest'ultimo. Trovo che il quadrante sia davvero molto bello con un'allaborazione soleil abbastanza evidente e che regala dei riflessi interessanti quando viene colpita dalla luce alla giusta angolazione. In questo caso gli indici sono di tipo misto, quelli a ore 3, 6, 9 e 12 sono applicati di dimensioni piuttosto generose con elementi lucidi ai lati della porzione di Super Luminova al centro e con una forma profondamente legata agli anni 60. Tutti gli altri indici invece sono a pallettoni. Su tutte le referenze del Super Squale ha deciso di non mettere la data, nonostante fosse comunque presente sui vintage, il tutto a vantaggio della simmetria del quadrante. Le sfere a matita hanno una finitura lucida di buona qualità e ospitano al loro interno una discreta quantità di pasta luminescente in colorazione Old Radium. La luminescenza è sorprendentemente buona al buio, anche nonostante le dimensioni piccole degli indici a pallettoni e la lettura dell'ora è agevole anche a distanza di parecchio tempo dall'esposizione ad una fonte di luce. Il vetro è uno zaffero di tipo boxed con lieve curvatura esterna. Esteticamente è davvero bello perché ricrea la giusta atmosfera insieme agli altri dettagli fortemente ispirati al passato. Chiaramente con questa forma qualche riflesso si viene a creare in alcune situazioni, nonostante il trattamento sia presente sul lato interno, ma comunque niente che pergiudichi la lettura dell'ora. La ghiera ha un inserto in occiaio spazzolato con numeri incisi nello spessore e riempiti di smalto nero. Esteticamente è molto bella ed è perfettamente in linea con l'anima vintage del super squale, solo che il dot a mio avviso ha una colorazione anche fin troppo scura se confrontata a quella di indici e sfere, che reputo invece perfetta. La zigrenatura antiscivola è abbastanza efficace e la presa è facilitata dalla lieve sporgenza rispetto alla carrure. La rotazione è fluida e i 120 scatti sono molto precisi. La cassa si inserisce alla perfezione nel filone stilistico tipico degli skin diver anni 60, sia per quanto riguarda il design che per quanto riguarda le sue dimensioni compatte. Le anse sono squadrate nella parte terminale e sono leggermente curvate verso il basso. La carrure è sottile e visto di profilo il super squale dimostra di essere molto snello per un diver resistente fino a 200 metri di profondità. La finitura è interamente satinata, sia sulla parte superiore delle anse che sui fianchi, con un livello qualitativo che non delude neppure se osservato con la lente macro. La corona Ore 3, così come su tutti gli altri skin diver, non è protetta da spallette, però è piuttosto compatta e non sporge troppo. È lucida e riporta il logo von Buren in rilievo. Ovviamente è a vite e la filettatura è molto precisa, sia in apertura che in serraggio. Il fondello è in acciaio, senza finestra e in zaffero. Da questo punto di vista, squale rimane fedele alla sua tradizione. Rispetto a quanto visto su altri modelli, trovo che in questo caso il medaglione centrale abbia una lavorazione ancora più piacevole, con il logo, le scritte e il motivo a ondine in rilievo e l'anello intorno satinato. All'interno del super squale c'è il calibro Sellite SW200-1 in grado di laborè, una meccanica affidabile ed estremamente diffusa, con una frequenza di 28.800 alternanze all'ora, una riserva di carica di 38 ore e la possibilità di ricaricare anche manualmente, oltre che di fermare la sfera dei secondi per una sincronizzazione più precisa. Questo esemplare ha fatto registrare uno scarto nell'ordine di più 7 secondi al giorno. Come vi dicevo all'inizio della recensione, il super squale può essere scelto in abbinamento con il cinturino in pelle, in tinta con il quadrante o con il bracciale in acciaio. Io ho preferito il secondo, che è un bel chicchi di riso con terminali specifici per questa cassa. Questo design è senza dubbio quello che va per la maggiore su tutti gli orologi moderni ispirati al vintage, da Doxa ad Aquastar, da Nevada alle reinterpretazioni più moderne di Baltic. E con linee di questo genere è praticamente impossibile che non si adatti bene stilisticamente. La qualità del bracciale montato da squale è piuttosto buona, con maglie solide ma allo stesso tempo flessibili le une sulle altre e poi sono tenute insieme da perni a vite. La chiusura è di tipo standard, con il logo inciso all'esterno sulla scatoletta e i quattro fori per la micro regolazione. Non manca l'estensione per la butta. Il super squale è un orologio compatto, perfetto per chi ha un polso non particolarmente grande. Lo spessore è davvero contenuto e anche il bracciale in acciaio aggiunge pochissimo peso. Insomma, una volta indossato è davvero comodo e riesce a scivolare facilmente anche sotto il polsino di una camicia. Il diametro è di 38 mm esatti in corrispondenza della ghiera, ma la cassa è un pochino più piccola. La distanza da ansa ad ansa è di 45,7 mm, lo spessore è di 12,7 mm e il peso con il bracciale regolato per il mio polso da 16 cm è di 111 grammi. La moda delle riedizioni di orologi vintage si sta tutt'altro che affievolendo, ma alcuni marchi hanno secondo me più titolo di altri di riproporre alcuni design del passato e trovo che squale sia senza dubbio tra questi. Il super è un modello che si va ad aggiungere al sub 39, entrato a catalogo già un paio di anni fa e che offre un'alternativa in più a tutti quelli che amano il marchio e sono affascinati dalla sua storia, ma che preferiscono scegliere orologi dalle dimensioni più contenute. A livello qualitativo trovo che questo modello sia molto curato, soprattutto per quanto riguarda la cassa e il quadrante, davvero bellissimo in questa colorazione grigia con effetto soleil. Il prezzo di listino di questa versione è di 1.355 euro. E voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Spero che questo mio contenuto vi sia piaciuto, nel caso non dimenticatevi di lasciarmi un bel like e noi ci vediamo presto con un altro video. Grazie a tutti.